Bella ragazzi, prima del video mi raccomando non dimenticate di mandarmi una bella richiesta di amicizia nel primo link in descrizione, quello di Instant Gaming dove troverete un sacco di videogiochi a prezzi scontatissimi, tra cui anche le ricariche della PS4. Instant Gaming! Ehi, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyuder e ragazzi continuiamo a parlare di sfide anche in questa settimana ragazzi, sono tutte abbastanza fattibili, tra l'altro avrete già visto sicuramente il mio video, vi mando il pop up relativo allo standardo segreto, beh oggi vediamo un'altra missione abbastanza particolare che è quella di cercare tra una donna gigante di roccia, tra un pianale in bilico, insomma, bisogna trovare la stella nascosta nella settimana 8 e ragazzi praticamente siamo già arrivati, come vedete davanti a noi c'è la donna di pietra, eccola là davanti, là c'è il pianale in bilico e c'è il portale da qualche parte lì, non ho idea di che cavolo sia, comunque la posizione esatta ragazzi, molto probabilmente è proprio questa parte di terra leggermente senza la neve, quindi mi raccomando, atterrate, prendetevi la vostra stella e prot! 10 stelline del pass battaglia! Io vi ringrazio per aver guardato questo video, noi ci vediamo presto, ciao! 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 Ciao!